Un caro saluto a padre Giuliano Stenico, al sindaco Giancarlo Muzzarelli, ma anche a Monsignor Castellucci, vescovo di Modena. Mi sarebbe piaciuto essere fisicamente con voi, ma altri impegni istituzionali me lo impediscono. Io voglio davvero ringraziarvi per questo lavoro che fate, che permette all'Emilia-Romagna di avere, grazie anche al vostro contributo di un volontariato e di un associazionismo così impegnato nel sociale e nel socioassistenziale, di avere una quantità, ma anche una qualità dei servizi che vengono rogati decisamente superiore a quella che potrebbe avere se il pubblico, per quanto bene faccia, facesse da solo o senza il contributo di soggetti come i vostri. Ovviamente l'impegno è quello di cercare di lavorare sempre bene e sempre meglio insieme e soprattutto di robustire ulteriormente una rete che verso coloro che hanno più bisogno o più in difficoltà di altri non vadano lasciati soli, in una società che monetizza un po' troppo l'impegno di ognuno di noi, soprattutto in una società che non deve, guai a farlo, alzare i muri o abbandonare chi è più in difficoltà. Dico sempre l'Emilia-Romagna deve essere quella terra nella quale anche l'ultimo della fila sa sempre che anche lui potrà tagliare il traguardo. Grazie a tutti.